ciao a tutti e benvenuti su questo canale il mio nome è gila e oggi volevo parlare con voi della legge della trazione universale oggi volevo darvi alcune informazioni di come usare la vostra energia e non solo tantissime altre informazioni che aprono la vostra consapevolezza ed essere così i creatori che siete venuti che siete stati disegnati a essere noi tutti siamo dei creatori allora per capire questo bisogna imparare ciò che possiamo fare e oggi volevo parlare con voi dei soldi che sono equivalenti all'energia l'energia che c'è nel nostro corpo l'energia che noi abbiamo come budget per poter fare questa esperienza per poter fare un'esperienza ricca allora questa energia è come è come acquistare energia con i tuoi contanti e il significato di questo è che tu puoi avere cura della tua energia come se fosse il tuo conto corrente per esempio con cui vivi e di conseguenza se sprechi la tua energia i tuoi soldi interferisci con la tua stessa sopravvivenza se perché fossero soldi fisici non usciresti per esempio fuori per strada a buttare a destra e manca o a regalare i tuoi soldi ecco perché è molto importante capire che tutto è energia e le nostre cellule non sono non si nutrono solo di cibo e che il cibo stesso produce l'energia e l'energia che aiuta il nostro sistema biologico a funzionare bene le cellule del nostro corpo fanno affidamento sull'energia quindi senza energia non c'è vita e di conseguenza è fondamentale che tu hai un budget energetico che te da che ti dà la vita infatti nel nostro corpo l'energia e nelle tipo monete chiamate ATP no queste molecole di ATP che rappresentano unità di energia come se fossero soldi veramente ecco perché i biologi si riferiscono come dire a queste molecole di ATP come alla moneta del regno della vita il significato è questo le molecole di ATP sono come la benzina per il motore per le macchine che vengono utilizzate per aumentare i nostri processi biologici per stare in vita insomma tutti dobbiamo avere queste molecole chiamate ATP è come un conto corrente di ATP nel tuo corpo come una banca del corpo allora la questione è questa come usi tu questo conto corrente di ATP pensate che il 25 per cento del totale di tutta l'energia del nostro corpo viene consumata dal cervello allora ti rendi conto ad un tratto che il tuo cervello utilizza un quarto dell'energia del tuo corpo la stessa energia che utilizza per esempio il sistema muscolare di un mare maratoneta per esempio quindi il sistema muscolare e il cervello sono praticamente la stessa cosa come consumo energetico di queste ATP di queste monete di queste molecole di energia perché è importante per tutti noi capire quello che vi sto dicendo oggi perché così diventi consapevole di quello che fai con il tuo conto corrente energetico nella banca del tuo corpo cosa fai se ti interessi per esempio di quello che fa tizio caio simbrogno di gossip per dire no oppure cose che non sono inerente alla nostra come dire esperienza di vita cose che ti distraggono dal tuo obiettivo cose che ti mettono paura o ti mettono in modalità sopravvivenza e oltre a consumare la tua energia cioè soldi energetici non sei nemmeno più creativo al cento per cento quindi bisogna essere consapevoli di come usi il tuo pensare il pensiero questo è molto importante perché quando continui a pensare al passato e dell'eterio sia per la tua energia soldi che per le tue manifestazioni perché perché continui a portare il passato nel presente che si manifesterà in futuro e dovrai lottare con le circostanze che tu hai creato con il tuo pensare senza essere consapevole credo che non stresserò mai abbastanza questo fatto da farvi capire che dobbiamo diventare consapevoli dei nostri pensieri perché i pensieri rappresentano unità di energia ogni volta che intrattieni un pensiero usi energia e come dicevo prima è come è la stessa cosa come andare in mezzo alla strada con un libretto di assegni e inizia a fare assegni a chiunque ti sembra più carino oppure vuoi fare beneficenza di tutto quello che è il tuo tesoretto per dire così in teoria è come dare via la tua salute la tua vita la tua energia oltre che la tua salute perché l'energia è vita quello che ti sto cercando di dire è che tu hai un budget di energia e che bisogna averne cura di come spendi la tua energia che ti tiene in vita e che ti aiuta a fare la tua realtà la salute del tuo corpo del tuo veicolo senza dare a cose a persone che non ottieni nessun ritorno della tua energia non la sprecare perché esattamente come scrivere assegni della tua banca del tuo conto corrente energetico del tuo corpo e dalla via perché è importante perché la biologia della credenza rivela come i nostri pensieri creano la nostra realtà e se tu investi in pensieri che sono controproducenti come la paura del futuro oppure del passato come per esempio cosa devo fare adesso oppure come il dubbio eccetera e tutti i pensieri di basse frequenze quello che ti sto dicendo è che non sono questi pensieri ti consumano l'energia vitale ma se tu l'intrattieni di continuo ripetutamente ripetutamente questi pensieri si caricano si magnetizzano e prendono vita perché tu sei la vita e allora loro si devono manifestare se sono creativi e costruttivi va benissimo ma il problema qual è che tutte le volte che ti trovi a pensare al passato e ai pensieri negativi produci altre situazioni e altre circostanze negative se metti la tua energia in pensieri che non fanno bene alle tue aspirazioni ai tuoi desideri e come buttare via i tuoi soldi quando ti impegni per esempio in discussioni di politica di persone che con persone che cerchi di convincere o per cambiare la loro vita il loro mondo in meglio per il loro bene ma loro non lo capiscono per esempio tu hai perso i tuoi soldi la tua energia e l'energia che serve alle tue cellule a riprodursi ok e quindi così ti trovi scoperto e così che non avendo tanta energia inviti le malattie a entrare nel tuo corpo ecco perché se io ti dicessi ti do un libretto degli assegni come dicevo prima e tu ti devi chiedere ogni volta che scrivi un assegno o fai un pensiero per il pensiero che fai ti devi chiedere per esempio questo pensiero migliora la mia vita o questo pensiero mi porta via della mia vita e quando inizi a realizzare questo inizi veramente a dirigere dirigere le tue azioni dove ti migliorano la vita e ti danno l'opportunità di sopravvivere e di realizzare i tuoi desideri i tuoi sogni di andare oltre alla sopravvivenza e a prosperare stai attento ai pensieri negativi perché danneggiano così il tuo sistema immunitario e provocano la malattia nel 1925 un fisico disse che l'universo è tutta energia che non c'è materia in questo mondo e nel 1930 il fisico james jeans ha detto che noi siamo stati condotti a credere che l'universo fosse una grande macchina ma che in realtà è più un grande pensiero è la realtà a riguardo a quello che dicono i fisici quantistici e quindi dal 1925 che la coscienza è il meccanismo primario della creatività del mondo che sperimentiamo quindi dal 1925 loro hanno operato questo sempre un fisico richard conheri disse in un articolo la cui conclusione fu questa che l'universo è immateriale e questo lo sappiamo già e mentale e spirituale ok quindi dice lui vivi e divertiti e questo è molto eccitante da capire che sono i nostri pensieri che manifestano la nostra realtà e ora non è solo spirituale ma è la scienza di base fondamentale dell'universo che dice che i pensieri sono creativi e se i pensieri sono creativi chi sta avendo il pensiero io sto avendo il pensiero e quindi ecco perché richard conheri dice che il mondo viene creato con la nostra attività mentale e la nostra spiritualità combinato e allora perché tanti dicono beh se sto creando il mio mondo con la mia attività mentale allora quando le cose vanno male io sono una vittima perché l'universo non mi sta aiutando allora la scienza ci dice chiaramente che siamo noi a creare che siamo noi creatori quindi la scienza ci dice anche che ci sono due menti la mente subconscia e la mente conscia e ne abbiamo parlato ampiamente di questo di questo argomento ma non è mai abbastanza vi posso assicurare perché la mente subconscia è fatta di abitudini di credi che diventano programmi non c'è un entità lì che ti ascolta per esempio lì c'è un programma che basta e per cambiare questo programma devi riprogrammare il tuo subconscio cambiare le tue credenze ok anche perché per il 95 per cento noi noi stiamo operando con la nostra conscia ma con quella subconscia e cioè con i programmi e le abitudini e naturalmente le credenze accumulate lì che sotto la coscienza e ci guidano la vita perché noi pensiamo per il 95 per cento del nostro tempo pensate noi pensiamo per il 95 per cento del giorno e quindi il nostro comportamento è controllato dalla mente coscia e subconscia e la verità è questa che tu hai i tuoi desideri sai quello che vuoi ma il subconscio fa andare i suoi programmi che sono stati installati da altre persone nel tuo subconscio che non rispondono ai tuoi pensieri ai tuoi desideri e quello che vede arrivare è la conseguenza di quello che hai come programma nel tuo subconscio il problema è che tu non lo vedi ricordati di questa cosa che si chiama mente subconscia e cioè sotto la coscienza sotto il conscio pensate che gli psicologi dicono che il 70 per cento dei programmi del subconscio stanno depotenziando l'individuo e comportamenti sono tutti autosabottanti e limitanti quindi tutti questi programmi sono stati installati nei primi sette anni di vita dalla famiglia dell'ambiente naturalmente dalle scuole e dalla società e di tutto quello che ci circonda e di tutto ciò che ci sta attorno noi veniamo riprogrammati continuamente la verità è che noi abbiamo grandi desideri eppure la nostra vita non è controllata da questo ma dalla programmazione che abbiamo da quando siamo venuti al mondo e tutto quello che vediamo è la conseguenza di questi programmi autosabottanti a livello del nostro subconscio non c'è qualcuno lì un entità come vi dicevo è un programma ecco perché di tutte queste conoscenze e di questi video che facciamo ecco perché ripeto certi concetti perché per farli i vostri per capire per dirvi e per capire il fatto che tu meriti tu sei un essere meraviglioso che meriti di avere tutto ciò che vuoi e poi avere tutto ciò che desideri ma devi stare presente devi stare nel presente perché solo così riesci a seguire il flusso della vita e a costruire altre credenze tu sei un creatore è così che crei la tua realtà iniziando a diventare consapevole e a capire ciò che sta succedendo a te dentro di te e che programmi hai e come fai a cambiare il programma che non ti piace quando stai usando i programmi acquisiti da altre persone quando stai esprimendo un desiderio inseriscilo come se lo avessi già e fai le tue affermazioni di continuo per esempio io sono sano oppure io ho una bellissima relazione oppure ho un meraviglioso lavoro eccetera come se lo avessi già ok molte persone non ce l'hanno eppure se continui a dire io sono sano io sono ricco per esempio la funzione della mente subconscia è che deve prendere il programma e trasformarlo in realtà se io sono malato e continuo a dire e a credere di essere sano anche se la mia condizione attuale è che io ho un problema di salute oppure economico e io inserisco questo programma nel mio subconscio quello che faccio e sottolineando continuamente che ho in un desiderio di essere in salute oppure di essere libero finanziarmente di essere indipendente anche perché la funzione come dicevo prima della mente subconscia è quella di prendere il programma e trasformarlo in realtà quindi se sono malato o povero e ci metto un programma inserisco questo programma un nuovo programma nel mio subconscio questo programma cosa fa io sono in buona salute cosa fa o io sono prospero perché la mente cosa fa aspetta un attimo ho un programma di essere sano eppure il mio corpo è malato ora mi metto subito l'opera a fare sì che tu sia sano o ricco come vi dicevo poc'anzi è questa la natura della mente inserire e creare salute nel corpo quindi inserisce un programma che deve essere quello che vuoi tu come se tu avessi già quella cosa che desideri nonostante l'evidenza dei cinque sensi è molto importante da capire questo che il subconscio è una mente fatta di programmi di abitudini non è un'entità è come un computer che ha installato per esempio un programma di addizioni per esempio giusto e tu vuoi che ti faccia le sottrazioni per fare fare questo cosa devi fare cambi il programma giustamente e come lo fai come lo fai a cambiare il programma come l'hai avuto il programma prima di tutto vi ho già detto che i primi sette anni di vita il tuo cervello il nostro cervello è stato in uno stato di ipnosi sulle onde decerebrare teta quindi se vuoi cambiare il programma ogni volta che vai a letto appena ti addormenti il tuo cervello opera sulle frequenze teta quindi se ti metti le cuffie ok gli auricolari le cuffie e riproduci il programma di quello che tu vuoi che succeda nella tua vita mentre la tua mente cosciente è disconnessa dorme il tuo subconscio sta scaricando i dati quindi cosa fai riproduci con le affermazioni con le affermazioni positive che vuoi che si manifestino nella tua vita nella tua esperienza oppure i messaggi subliminali e dopo un determinato periodo dopo un determinato numero di ripetizioni il tuo subconscio accetta il programma senza che la tua mente conscia sia coinvolta questa è la numero uno che vi dicevo dopo i sette anni come facciamo a riprogrammare il nostro subconscio attraverso la ripetizione come l'abbiamo acquisito come hai imparato le cose nel ripeterle ancora e ancora quanto tempo ci è voluto per imparare per esempio l'alfabeto quante volte ci sono volute per andare da a alla z prima di impararlo a memoria è così con tutte le cose che hai imparato come guidare per esempio come hai fatto a imparare a guidare un'auto attraverso la pratica attraverso l'esercizio ti esercitavi ripetutamente quindi se vuoi cambiare un programma devi metterti in mente che lo fai attraverso la ripetizione continua se vuoi essere felice continua dirlo che sei felice e sentilo c'è un detto in inglese che traduce benissimo ciò che voglio dire che dice così fake it until you make it cioè fai finta finché non succede perché se il programma del mio subconscio è quello di io sono felice allora visto che il 95 per cento opera questo programma la mente lo deve realizzare dopo un periodo di tempo e una volta che lo acquisisce come programma lo mette in funzione e tu sei a posto se invece mi vedo una vittima è malato e continuo a dire guarda sto male ecco vedi ecco la cosa si risolverà nella malattia o nella mancanza perché quello che continui a riprogrammare e come dicevo la mente ti dice vedi io ti mostro ciò in cui tu credi che tu sei una vittima vedi quando noi pensiamo ok ho una parte spirituale e una parte fisica perché ho un corpo perché non posso essere solo uno spirito per esempio allora in quel momento e i tuoi 50 trilioni di cellule in quel momento ti rispondono e se tu fossi uno spirito solamente che sapore avrebbe il cioccolato o il salato se non sai di cosa stiamo parlando il nostro corpo è come una tutta della realtà virtuale per esempio posso sentire l'odore posso vedere con questi occhi posso assaggiare il sapore posso udire quindi così uso i miei cinque sensi ma se fossi solo uno spirito come faresti a sperimentare le emozioni e sensi ecco perché devi avere la chimica del corpo è un sistema nervoso che traduce la chimica insensate sensazione la sensazione la sensazione non è chimica è una vibrazione elettromagnetica è una trasmissione e ti dico un'altra cosa noi pensiamo erroneamente che i pensieri che fai che intrattieni ok siano nella nostra mente nella nostra testa di continuo che qui dentro invece no sono fuori sono nella mercata nella tua aura e vengono trasmessi ok di nuovo al campo e alla fonte quindi tutto quello che pensi negativo positivo non sono qui sempre ma qui e questo si chiama risonanza quando due cose sono nella stessa vibrazione se una vibra l'altra vibra pure se poi vibrano nella stessa maniera se non sono in armonia non sono in risonanza ma se sono in armonia sono in risonanza questi pensieri escono nel campo magnetico e quindi i nostri pensieri vibrano e risuonano solo con qualcosa che corrisponde a quel pensiero quindi se invio un pensiero d'amore sono elementi che sono attinenti all'amore che vibra nell'amore risponderà al mio pensiero d'amore perché siamo in armonia in risonanza siamo sulla stessa frequenza se mando fuori un pensiero di natura negativo spaventoso e dico non posso fare questo ho paura eccetera eccetera con che cosa pensi che vibrerà di sicuro no con l'amore giusto solo cose di cui avrai paura giustamente attirerai e ti spaventano vibrerà con quel pensiero e se ci metti tutte queste informazioni insieme ti rendi conto che noi siamo creatori noi siamo davvero creatori noi entriamo in questo corpo per creare e ciò che creiamo e ciò che sperimentiamo la nostra mente traduce tutto in vibrazioni elettromagnetiche che tornano così al campo e che si integrano con la nostra vibrazione spirituale perché sono in risonanza io sono in risonanza con lo spirito e lo spirito è in risonanza con il corpo perché stiamo usando la stessa vibrazione noi siamo creatori potentissimi finché il creatore non è programmato a non esserlo è così che rinuncia al suo potere noi siamo stati sistematicamente programmati a chiedere che cosa e chi siamo quando di fatto noi siamo venuti qui come come creatori per creare la nostra esperienza quando pensi che cosa stai dicendo al campo cosa vuoi e quando senti quell'amore e quell'armonia sta iniziando a brillare e la tua energia vibra d'amore e quindi sta dicendo all'universo ne voglio ancora e l'universo cosa fa ti manda ancora ciò che chiedi per rendere la tua vibrazione d'amore più forte per rafforzare ok quella vibrazione e questo succede sia nel positivo che nel negativo questo video l'ho pensato veramente come aiuto a farvi capire quanto è importante diventare consapevoli di ciò che pensi di ciò a cui stiamo dando la nostra energia e i nostri soldi energetici le nostre molecole di atp e non solo e non solo tutto quello che mettiamo fuori torna indietro queste sono le leggi della mente dell'universo tutto è un boomerang tutto ciò che esce da noi ok e va nell'universo attira verso di sé tutto ciò che è in risonanza con quella vibrazione è così che manifestiamo la nostra realtà allora io mi fermo qui sperando che tutta questa informazione vi possa aiutare a diventare dei creatori potentissimi che siete vi auguro una bellissima giornata e grazie per la vostra attenzione buona giornata a tutti ciao